Ben trovati alla nuova puntata del Salotto Canarino, ospiti di questa puntata sono il capitano della Fermana Fabio Cusaro, Rocco Costantino, attaccante e Paolo Calcinaro, vicepresidente dell'associazione di tifosi solo Fermana. Buonasera a tutti, cominciamo subito, Calcinaro lo abbiamo invitato perché è l'unico, a parte ovviamente i due giocatori, a essere stato a Celano tra i vari giornalisti e tifosi che di solito sono ospiti della nostra trasmissione. Da Celano è arrivata la seconda vittoria consecutiva per la Fermana, prima vittoria in trasferta per questa stagione, terzo risultato utile consecutivo nelle tre settimane di presenza di Osvaldo Iaconi sulla panchina della Fermana. Quindi il comandante sicuramente ha dato una sterzata e la sua presenza, il suo manico come si dice, sicuramente ha inciso perché fino adesso la formazione è stata quasi esclusivamente la stessa delle precedenti settimane. Solo da domenica a Celano ci sono stati due innesti nuovi, importanti come Sacco in difesa e Ciuffetti a centro campo. Allora subito parola a Fabio Cusaro che era presente in campo, com'è andata questa partita di Celano? Apparentemente è tutto facile oppure è stata una partita dura? Noi siamo stati bravi a crearci nella parte perché il campo era un campo praticamente impraticabile e quindi siamo riusciti ad adattarci subito alla situazione. Non riuscivamo a giocare quindi abbiamo per forza di cose dovuto alzare il pallone. Alzando il pallone abbiamo innescato i nostri tre attaccanti che sono tre attaccanti di grosso valore e siamo riusciti poi ad andare in vantaggio con un tiro del nostro centrocampista. Però credo che il primo tempo poteva sicuramente concludersi con un parziale maggiore perché abbiamo avuto diverse occasioni. Nel secondo tempo siamo stati bravi a controllare la gara, abbiamo avuto altre occasioni in contropiede, ricordo una con Pier Gallini e abbiamo chiuso finalmente la gara solo nel finale. Se dobbiamo trovare il pelo nel luogo probabilmente è stato il primo tempo che non siamo riusciti a chiuderlo con un parziale maggiore. Però insomma la squadra ha giocato come doveva, ha dato continuità di risultato e questo è importante. Infatti vincere aiuta a vincere e soprattutto si comincia a vedere questa differenza rispetto alle settimane precedenti. Quando la Fremana comunque andava in vantaggio sempre nei primi tempi poi non riusciva mai a gestire il vantaggio e anzi veniva rimontata dagli avversari. Questa volta come è successo col Termoli addirittura nel primo tempo. Qui nel finale c'è stata la chiusura della partita con possibilità anche di arrotondare il risultato. Sì 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 ma adesso giocando con questo modulo diverso nel senso con tre centrocampisti, Costantino trequartista e tre attaccanti diciamo con Pedalino e Bellucci anche le difese avversarie sono più impegnate quindi insomma i nostri attaccanti sono tre attaccanti di valore e lo stanno dimostrando e sono riusciti a procurarsi diverse occasioni da gol. È stato bravo il loro portiere in due occasioni, magari un po' imprecisi loro in altre però credo anzi che la vittoria sia strameritata. Ha sfiorato il gol anche Costantino che nel primo tempo mi sembra no? Sì anche nel secondo ho avuto due occasioni dove nel primo tempo il portiere ha fatto una gran parata e nel secondo tempo sono stato impreciso nel calciare. Quindi manca all'appello solo il primo gol di Costantino e di Bellucci che ormai Bellucci ci ha dato vistissimo più volte. Anche domenica Bellucci ha avuto un'occasione mi sembra sì il primo tempo dove il portiere è stato anche lì in quell'occasione bravo a deviare insomma. Allora tu dicevamo prima giochi in effetti sei un vero e proprio attaccante, non sei, non hai mai giocato come esterno puoi giocare come trequartista avanzato al massimo come seconda punta? Sì, sì sono attaccante, sono stato sempre impiegato come attaccante ecco quindi anche in questo ruolo qui che per me comunque è nuovo, il mister insomma mi sta comunque spiegando i movimenti giorno dopo giorno e quindi credo che ci serva anche tempo per insomma assimilare determinati concetti e movimenti. Nuovo in che senso? Giochi dietro la punta? Sì, sì non è proprio secondo me un trequartista perché comunque anche tra di noi ci interscambiamo i ruoli quindi diciamo giriamo insomma ecco io pedalino e Bellucci. E poi ci sono gli inserimenti da dietro dei centrocampisti come Misin che ha segnato a Celano o Nazzigoni che ha segnato ad Agnone. Sì sì sì, Nazzigoni mi sembra era subentrato se non ricordo male ad Agnone. Una curiosità, entrambi come ci avete rivelato siete stati allenati in passato da Osvaldo Iagoni, raccontateci quando, come e perché. Sì, io ho avuto l'occasione di averlo a Civitanova prima di andare a Pesaro l'anno scorso e in fase di preparazione quindi non sono stato proprio tutto l'anno con lui poi per altri motivi insomma non abbiamo più continuato però ho avuto l'occasione appunto come dicevo di averlo, ho avuto il ritiro e insomma lavora in un determinato modo che a me personalmente piace ecco. E questo ci fa piacere Fabio sicuramente l'ha avuto Per un anno intero invece Gussero? No, io l'ho avuto da gennaio perché lui è arrivato, è subentrato a gennaio e è andato via poi a maggio con la stagione per il Novara, parlo di nove anni fa ormai di nove anni fa, era stata una stagione tribolata conclusa poi con la vittoria e il play out però ricordo insomma i metodi di allenamento erano quelli, quelli che insomma usa ancora adesso e sono insomma piacevoli da utilizzare e è un divertimento insomma andare al campo E sono sicuramente metodi di allenamento che danno i loro frutti visto che Osvaldo Iaconi nella sua carriera da allenatore ha vinto 11 campionati più ci sono diverse salvezze e non dimentichiamo che anche da giocatore ha vinto diversi campionati di serie C1 con il Lecco credo, ha vinto un campionato di serie B con il Lecco è andato anche in serie A quindi è un giocatore che è uno sportivo che anche da giocatore insomma ha masticato calcio ad alti livelli e sempre in squadre vincenti Ora ascoltiamo Paolo Calcenaro perché era presente sulle tribune dello stadio di Celano questo stadio che ha una tribuna principale che assomiglia vagamente a quella di Udine Eh sì, giusto quello però noi eravamo di fronte chiaramente beh ci ha fatto a tutti piacere vedere una fermana che ha dominato perché di questo si tratta forse è tolto un quarto d'ora nel cuore del secondo tempo insomma dove il Celano ci ha messo forse più cuore che poi che vera e propria tecnica o tattica rendendosi pericoloso una sola volta poi con una deviazione provvidenziale di un difensore su un tiro dell'esterno destro del Celano ci ha fatto piacere il piglio appunto della squadra della squadra con non più la paura ma la consapevolezza di essere più forte degli avversari quindi questo io credo che sia abbastanza importante è importante che con tre dirette concorrenti perché di questo si tratta siamo riusciti a fare sette punti quindi abbiamo centrato quello che ci serviva e l'abbiamo fatto con appunto questa consapevolezza adesso c'è da vedere il lato B della cura Iaconi andando a affrontare una formazione più forte, più blasonata probabilmente favorita come la Civitanovese vedremo come Iaconi ha oltre che disposto tatticamente ma anche come ha corroborato la mentalità di questa squadra di questi giocatori che lo dico ma da tifoso non da opinionista quale poi alla fine non sono a volte ci è sembrata un po' proprio smarrita smarrita nelle proprie certezze in varie partite che abbiamo visto fino adesso quindi credo che il piglio sarà molto importante insomma la mentalità la tenacia con cui si affronterà la Civitanovese certo quello che servirà con una squadra così così corazzata come quella della Civitanovese un po' più di cinismo avanti perché poi dopo magari ecco il settore offensivo della Civitanovese non vale il Celano insomma diciamo beh sicuramente nelle ultime tre partite la Fremana ha fatto questi sette punti con squadre di bassa classifica le ultime due Celano e Termoli sono molto più in basso della Fremana hanno ormai quasi la metà dei punti perché sono all'ultimo posto a otto punti la Fremana è a quindici punti ed è appena uscita dalla zona play-out per un punto soltanto grazie alla vittoria di domenica scorsa a Celano quindi senza voler sminuire le vittorie della Fremana contro queste due squadre sicuramente sono state partite meno difficili mentre domenica sarà un po' più complicata perché arrivano la Civitanovese che secondo molti ha addirittura l'organico più forte del Girone ricordiamo Amodeo il capocannoniere della Civitanovese anche il capocannoniere del Girone poi c'è Degano e tanti giocatori molto forti però anche la Fremana sta irrobustendo il proprio organico abbiamo detto che domenica scorsa a Celano hanno esordito due nuovi arrivi cioè un giovane difensore saco di origini albanese è un under può giocare sia centrale che esterno anche se a Celano è stato impiegato come esterno quello che forse sarà il ruolo che lo vedrà maggiormente impiegato visto che mancava un terzino under di qualità e speriamo che questo lo sia poi ha esordito anche un altro giovanissimo classe 96 Alessandro Ciuffetti un centrocampista e i due giocatori qui presenti che lo hanno visto dicono che sia un centrocampista d'utile un giocatore che si può adattare a vari ruoli e penso che sia questa la tattica diciamo che utilizza Osvaldo Iaconi e Fanesi nell'acquistare nuovi giocatori cioè giocatori che possano adattarsi a vari ruoli perché abbiamo visto che il problema fino adesso uno dei problemi della Fremana era che mancando un solo giocatore doveva rivoluzionare tutta la formazione per rimettere altre pedine al loro posto allora voi avete visto questi due vostri compagni esordire a Celano diteci qualcosa di loro ma parlando di Sacco ho visto un giocatore che non dava l'impressione di essere under sinceramente giocando in un ruolo delicato come il terzino insomma ha fatto ha fatto molto bene ha chiuso un paio di diagonali molto pericolose un palla al piede è stato efficace e insomma mi è piaciuto molto è un ragazzo magari a volte un po' troppo irruento però insomma per la sua età è un ottimo giocatore Ciuffetti è un giocatore come dicevamo molto duttile non grandissimo fisicamente però ha svolto tutte le due fasi in maniera efficace il campo sicuramente non permetteva fraseggi magari particolari però anche lui è stato bravo ad adattarsi alla partita è stato bravo a dare una mano in copertura e ad appoggiare anche la fase offensiva che insomma provando due giorni in allenamento poi non risulta mai sempre facile magari la domenica riportare quello che si prova in allenamento invece è stato anche molto diligente tatticamente insomma l'esordio per tutte e due è stato positivo speriamo si possano ripetere già la domenica Speriamo che l'albino continua e la settimana scorsa è arrivato un nuovo portiere cioè Jacopo Moscatelli classe 92 quindi è un over però è molto giovane e penso che Acelano sia andato in panchina No Acelano non c'era perché ha avuto 39 di febbre sabato il sabato quindi non è venuto è venuto il ragazzo Griffey quindi il portiere della Junior si che è il nostro portafortuna che è venuto come sembra 3-4 volte in panchina abbiamo sempre fatto risultato a questo punto a questo punto sarà difficile conquistare per Moscatelli scherzo è una battuta proprio questa settimana è arrivato un altro giocatore un centrocampista classe 84 testerato oggi martedì Andrea Cossu 30 anni quindi la stessa età di Fabio Cusaro che ha un passato in Serie B con la Tristina una 35ina di presenze poi molte presenze in C1 con il Lanciano e la Paganese se ricordo bene e poi l'anno scorso stava con l'Ancona in Serie D e quest'anno nei primi mesi di quest'anno stava Corridoni in eccellenza non lo so come possa essere il centro da finire comunque testato dalla fermana e speriamo che sia un rinforzo per il centrocampo valido e un over alto 1,85 quindi la stazza fisica è da difensore quasi dovrebbe essere un giocatore molto forte è arrivato oggi agli allenamenti martedì sì sì è arrivato oggi martedì sicuramente un ragazzo di un fisico imponente insomma che davanti alla difesa comunque in mezzo al campo può farsi sentire era magari una caratteristica che nel nostro centrocampo mancava quella di centimetri di fisicità e credo che insomma la società con questo acquisto abbia colmato quel gap che magari c'era in mezzo al campo secondo i tifosi lo chiediamo a Paolo manca qualcos'altro qualche altra pedina forse la società in cerca ancora di un difensore di esperienza ma il fatto è questo innanzitutto credo che comunque Cossu con queste caratteristiche che hai detto possa essere anche molto utile sulle palle inattive dove abbiamo sofferto molto in copertura quindi insomma credo che possa essere utile anche lì il fatto del difensore c'è molto squilibrio mi pare con l'occhio esterno tra quello che possiamo vedere il rendimento che possiamo vedere quando sono in campo le poche volte insomma come dobbiamo dire che sono stati in campo insieme Cusaro e Terrenzio rispetto poi alla difesa che poi si va tra virgolette in senso non offensivo ci mancherebbe altro arrangiandosi non avendo un terzo centrale da categoria insomma perché anche Filipponi che comunque ha fatto ieri una onesta partita comunque magari è il primo anno che viene proiettato in questo palcoscenico l'anno scorso mi sembra che era con il pagliare retrocesso in eccellenza quindi credo che potrebbe essere una pedina necessaria ecco magari potrebbe rivelarsi anche lo stesso sacco io non lo so ieri l'ho visto molto fisicamente molto preparato forse alla fine è andato un po' in crampi mi sembra che è stato spostato in avanti proprio perché stava in difficoltà ma è normale magari per chi non ha giocato con regolarità per la prima parte di campionato credo che possa crescere adesso non conoscendolo potrebbe essere valido anche sacco in in quel ruolo insomma quindi certo a quel punto potrebbe tornare utile anche Marini che finora per il gioco degli under è stato abbastanza sacrificato anche per poi problemi fisici proprio insomma infatti il problema principale della fermana è che fino adesso questi due giocatori David Marini non ha giocato quasi mai per via di un infortunio Terrenzio lo stesso infortunato ha un problema muscolare non so quanto lungo che cosa dicono i medici sicuramente la società pensa a qualche nuovo innesto per avere una rossa più larga nei vari reparti in modo da avere sostituzioni quando ci sono squalifiche e infortuni passiamo alla partita di domenica prossima arriva la Civitanovese che fa un po' paura come numeri perché con 31 gol infatti è praticamente l'attacco più forte del girone mentre la fermana con 23 gol subiti non è la difesa più perforata ma poco ci manca più perforata della fermana soltanto il Celano e il Termoli che sono le ultime due in classifica le altre squadre che occupano le posizioni play out cioè Recanatese Castriffidardo Agnonese e Vispesero hanno subito meno gol della fermana e qualcuna cioè esattamente la Recanatese ne ha fatto anche uno in più quindi i numeri ancora dicono che la fermana in seria difficoltà domenica arriva la Civitanovese sarà il banco di prova la prova del 9 per vedere se questi tre risultati utili consecutivi conseguiti da Osvaldo Iaconi possono avere una continuità un consolidamento sì sappiamo che sarà una partita diversa dalle ultime tre che abbiamo affrontato perché insomma le ultime tre sono stati veramente tre scontri diretti e ci siamo comportati benissimo la Civitanovese è una macchina da gol io ho visto diverse immagini delle loro partite e segnano con una facilità imbarazzante soprattutto Amodeo Degano Degano Pintori Forgione Margarita più ne ha più ne mette quindi insomma dovremmo stare attenti chiaro che abbiamo in queste partite trovato una compattezza sia in mezzo al campo che davanti aiutati sicuramente anche dal movimento degli attaccanti non partiamo battuti in questo sicuramente cercheremo di siccome anche giochiamo in casa vogliamo toglierci una soddisfazione di poter anche fermare una grande diciamo che la macerata abbiamo dato prova che possiamo fermare una grande possiamo anche credo ripeterci contro la Civitanovese Crocco che ci dici no sicuramente i numeri parlano insomma però credo che comunque anche come diceva Fabio possiamo fermare una grande lo abbiamo già fatto sia a livello di risultati diciamo perché l'abbiamo avuto positivamente in quel di macerata che a livello di prestazione quindi dobbiamo essere comunque consapevoli di che se comunque abbiamo l'atteggiamento giusto possiamo portare a casa punti e oltre a quello anche la prestazione ecco a Paolo faccio una domanda un po' storica la Civitanovese adesso fa paura però una decina di anni fa quando la Fermana era in serie C1 la Civitanovese era in serie D o in eccellenza o in promozione ed era addirittura una società satellite della Fermana perché il presidente della Fermana Battaglioni è stato per qualche anno anche proprietario della Civitanovese che poi tra l'altro non ha iscritto nel 2002 con soli 4 anni di anticipo a quello che ha fatto con la Fermana e vabbè quindi è un derby che manca da tanti anni la Civitanovese e non fa i professionisti da 20 anni esatti perché l'ultimo anno fu nel 94 quando la Fermana invece tornò in C2 e iniziò la lunga scalata in C1 poi in serie B il derby negli ultimi 30 anni è stato giocato pochissime volte invece molte volte in passato fino agli anni 70 e affermo non ha sempre il riso spesso bene alla Fermana Sì beh sicuramente rispetto poi alle ultime due partite dello scorso anno che abbiamo avuto i presupposti sono del tutto diversi perché mentre l'anno scorso si affrontavano comunque due squadre di centro-bassa classifica che a cui il punto poteva comunque star bene ad entrambe questa volta no soprattutto nella partita di ritorno diciamo esatto soprattutto nella partita di ritorno però anche l'andata ci ricordiamo ben poche emozioni forse una sola un paio mi pare che fu l'esordio di Boccolini in panchina credo la seconda partita forse forse l'esordio fu fu fuori casa mi sembra di ricordare però ecco la fermana ha un piccolo vantaggio rispetto secondo me alle ultime partite che ha avuto in casa davanti a Recchioni questo scoglio del Recchioni che tante volte può aiutare ma può fare anche un po' paura a chi ci gioca in casacca giallo-blu è quello di una mente leggermente più libera cioè insomma quando si gioca poi con l'acqua la gola del risultato a tutti i costi non è facile non è facile per nessuno l'abbiamo visto anche il finale dell'anno scorso quando poi si andavano a giocare le partite le ultime partite in casa tutte con le squadre sotto la fermana ma ogni volta era uno spareggio per rimanere a galla adesso finalmente ci siamo rimessi lì in linea comunque di galleggiamento quindi insomma non è che dobbiamo cercare il risultato pieno a tutti i costi questo potrebbe essere un'arma in più per la fermana sarà una sicuramente una bellissima giornata nel senso che sarà molto combattuta l'invito mio personale come associazione solo fermana a tutti i fermani di accorrere allo stadio di venire anche perché poi immaginiamo che ci saranno saranno presenti anche molti tifosi della Civitanovese quindi non dobbiamo far mancare il nostro apporto assolutamente alla formazione canarina soprattutto visto che insomma ci stiamo rimettendo in carreggiata e a proposito di questo anche per creare per scaldare l'ambiente per scaldare l'ambiente venerdì alle 20 e 30 abbiamo previsto alla storia la cena di Natale dell'associazione solo fermana per tutti tesserati e non tesserati sarà un evento poi contornato anche da varie da varie attività insomma il menu c'è ed è molto valido i prezzi sono 20 euro per i tesserati 21 per i non tesserati le iscrizioni possono essere fatte presso Bar Primavera il Fermana Store il Blue Bar e Bar Emilio quindi speriamo insomma di creare un buon viatico di entusiasmo per la partita poi di domenica alle due e mezzo esatto sarà l'ultima partita poi la Bruno Recchioni dell'anno perché la successiva sarà il 4 gennaio contro la Midernina mentre l'ultima partita dell'anno della Fermana sarà a Iesi prima di Natale quindi un altro derby molto tosto perché la Iesina in casa al Carotti si fa rispettare quindi le prossime due partite prima di Natale diciamo saranno la cartina di tornasole anche grazie a questi rinforzi sulle reali potenzialità della Fermana Fermana che è inserita in un campionato che vede la Maceratese in testa la classifica ormai in maniera quasi stabile da inizio campionato la Civitanovese insegue a 4 punti di stacco poi ci sono Fano San Benedettese e Campobasto nei playoff è uscita dalla griglia playoff il Matelica un punto soltanto dietro il Campobasto Matelica che sembra stia apparentemente smobilitando perché ha mandato via sono andati via due pezzi da 90 come cacciatore che andrà a giocare in eccellenza Bruzzo anche se hanno detto per motivi personali familiari e Cristian Pazzi che è tornato di nuovo sul mercato attualmente svincolato non sappiamo dove andrà a giocare sicuramente andrà a giocare da qualche parte un elemento come lui non credo che venga la fermana anche se i tifosi lo chiedono anche perché in attacco come detto sembra che siamo abbastanza al completo a meno che non vada via qualcuno si vociferava anzi no è stato confermato l'interessamento di alcune squadre come la Maceratese il Teramo per Saverio Pedalino che è il capo cannoniere della fermana che a Celano ha segnato il sesto gol della stagione speriamo che Pedalino resti così hanno confermato la settimana scorsa sia lui che la società solo nel caso in cui Pedalino dovesse andare via ci sarebbe la necessità di un nuovo arrivo e potrebbe essere Cristian Pazzi vedremo anche se a questo punto io personalmente preferirei che l'assetto della squadra in attacco resti questo perché i giocatori mi sembra che si intendano molto bene ho visto le immagini anche da Celano ci sono stati scambi continui Pedalino ha fatto la sponda sul gol di Misin a Misin proprio quindi c'è Bellucci comunque ci sono insomma c'è un continuo scambio insomma aiuto tra vari giocatori come vedete questo campionato in cui ci sono queste squadre nei playoff Celano, Marsica e Termoli sembrano in via di isolamento in fondo la classifica e poi c'è questa Vispesolo che è l'ex squadra di Cusaro in questa triste posizione al terzo ultimo posto che per una città come Pesolo sicuramente non è la posizione più adatta Sì per quanto riguarda la fermana noi non dobbiamo assolutamente pensare di aver già fatto tutto anzi sappiamo che siamo a un solo punto all'inizio diciamo esatto un solo punto dai play out e quindi dobbiamo ancora continuare a fare risultato per toglierci da questa brutta brutta posizione è chiaro che probabilmente le squadre che abbiamo incontrato come Celano come Termoli anche la stessa Agnonese probabilmente hanno qualcosa in meno dal punto di vista qualitativo magari di altre squadre e probabilmente poi la classifica rispecchia un po' quello che sono veramente i valori in campo per quanto riguarda la mia ex squadra mi dispiace insomma perché ho tanti amici lì sono stato benissimo un anno e credo che nel mercato di dicembre insomma faccia qualcosa già ha preso Labriola e Martini quindi non so se prenderà qualcun altro prima della fine del mercato però sta cercando di rinforzarsi per cercare di risarire la classifica nella parte alta invece ci sono diverse squadre io credo che tutte quelle inserite nella griglia play off possano dire la loro per la vittoria finale in questo momento probabilmente la più in forma è il Fano che mi sembra che abbia fatto la quinta vittoria la quinta vittoria di fila e abbia un assetto di squadra insomma importante con due bomber come Gucci Sivilla e Borrelli anche insomma di grossa qualità la Sanvenetese ha cambiato allenatore insomma settimana scorsa e credo che siano tutte 4-5 in corsa per la promozione Sì sì il Fano tra l'altro era centro classifica fino a qualche settimana fa adesso addirittura è al terzo posto insidia si può dire che insidia la vetta della classifica la maceratese Rocco tu vieni da un grosso infortunio quasi un anno fa sei stato fermo molti mesi finalmente ormai appartiene al passato questo infortunio sei in hai ripreso insomma totalmente la condizione fisica Sì 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 sono ormai otto mesi e più insomma dall'infortunio quindi sto iniziando da qualche settimana ormai ad allenarmi regolarmente e a giocare comunque regolarmente senza alcun tipo di fastidio questo mi fa molto piacere perché comunque ho avuto mesi brutti da questo infortunio molto insomma molto brutto per un giocatore e devo comunque ringraziare la Fermana perché ha creduto in me anche quando non ero diciamo al 100% dato sì che comunque mi sono fatto male a marzo quindi comunque a luglio quando ho ricevuto la chiamata ero ancora in fase di riabilitazione e quindi per questo comunque volevo ringraziare e spero comunque di ripagare quella fiducia che hanno avuto loro in me in quel momento sei stato insomma una delle scommesse del direttore sportivo Fanesi del nuovo staff societario e per adesso insomma è una delle scommesse azzeccate in pieno insomma sì spero comunque di fare qualcosa di più ecco comunque non ho avuto neanche la possibilità appunto per la mia condizione fisica però credo che comunque anche lavorando con il mister questo possa avvenire ecco come scommessa tanto per fare un paragone storico come lo fu proprio Massimiliano Fanesi che arrivò alla Fermana infortunato dopo un infortunio all'Avellino in serie B e con la Fermana ultima in classifica per tutto il campionato Fanesi segnò nove golle e fu il capo canoniere della Fermana quindi anche lui fu una scommessa diciamo vinta dall'allora presidente battaglione che diciamo ne ha comunque vinte tante da quel punto di vista va bene con questo ricordo chiudiamo questa puntata del Salotto Canarino ricordiamo domenica prossima Fermana Civitanovese tutti allo stadio perché è un derby importante bisogna sostenere la Fermana e fare bella figura con i tifosi della Civitanovese che verranno numerosi in quanto la loro squadra è seconda in classifica e ricordiamo venerdì sera all'hotel a storia di fermo cena dei tifosi canarini il tempo limite per prenotarsi sarebbe mercoledì sera però volendo c'è posto e quindi ci si può presentare anche all'hotel a storia la sera stessa il venerdì un posto a tavola si può aggiungere sempre non c'è nessun problema bene ringraziamo agli ospiti di questa puntata che sono il capitano della Fermana difensore centrale Fabio Cusaro grazie buonasera attaccante Rocco Costantino grazie per l'invito buonasera e Paolo Calcinaro vicepresidente dell'associazione di tifosi solo Fermana buonasera a tutti bene grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima puntata del Salotto Canarino rimanete sintonizzati su Fermo TV grazie a tutti